E bella a tutti ragazzi e benvenuti in un mio nuovo video Io sono Renzo e come potete ben vedere dalla descrizione del video Oggi parleremo del fatto che è successo a CiccioGamer89 appunto Del fatto del romics appunto E quest'oggi volevo dare una mia personale opinione E quindi se ci saranno commenti offensivi a me ovviamente non me ne fregherò un cazzo Io sarò pronto a rispondere a tutto perché io non ho assolutamente paura E insomma Volevo dirvi Che allora innanzitutto Quel gesto che ha fatto quel ragazzo assolutamente Non era una cosa giusta da fare ovviamente E ma a parte il gesto che ha fatto quel ragazzo Ma c'è poi questa cosa Come avete potuto ben vedere Questa cosa è continuata sui social Tutte le vignette che hanno fatto contro CiccioGamer Sei un obeso La scatola di cioccolatini Della Nutella E Poi vabbè Ovviamente Anche le critiche che hanno fatto molti youtuber Su questo fatto Su di lui anche E E quindi volevo dire che Secondo me Come mia Cosa personale Come mia cosa personale Detta da me E Questi Questi canali di queste persone Che Tra parentesi Che tra parentesi persone Perché non possono essere considerate persone E Questi canali secondo me su youtube Non dovrebbero esistere Cioè Questi canali non dovrebbero neanche esistere su youtube Cioè perché queste Sono persone di merda Che stanno dietro a uno schermo E Criticano solamente Senza Senza vedere la realtà dei fatti E Niente Cioè vi devo dire che Che questa cosa che è successo a ciccio Mi ha colpito In maniera molto Significativa Cioè nel senso Mi ha colpito un bel po' Insomma questo fatto E E Questo video Appunto lo sto facendo anche Per supportarlo Che Difatti E infatti Come diceva ciccio nel suo video Questi atti alla fine Sono atti di bullismo Cazzo Cioè non sono Gli atti di bullismo Non sono solamente quelli Sui telefoni Su whatsapp O a scuola Cioè sono anche questi Sono anche questi atti di bullismo E quindi ciccio ha ragione Quando Quando E quindi E quindi ciccio ha ragione Quando E quindi ciccio ha ragione Quando ciccio Cioè scusate Sto facendo un po' di Sto sbagliando un po' Ma Ma questo perché Parlo molto poco Parlo veramente di rado Cioè non riesco a fare Quei lunghi discorsi Che In molte persone fanno E quindi se mi vedete Che Che balbetto Che non riesco a dire delle cose È per questo motivo E quindi Per E Scusate Mi avete pure da ridere Ragazzo Allora Ritornando a questo fatto Ritornando a questo discorso E Come Come ha detto Come ha detto Ciccio Che voleva denunciare Quei ragazzo Secondo me Ha fatto benissimo Perché come ripeto E come dice Ciccio Gamer Questi sono atti di bullismo E E E quindi E quindi è giusto Denunciarli E Che altro dire Boh Beh Non penso che ci sia altro da dire A A questo riguardo Perché come ripeto Queste persone Sono persone Di merda Che non devono esistere Sulla terra Perché Siamo tutti bravi a criticare Cioè Però Cioè Cioè La critica Non è una cosa Giusta Cioè Ehm Cioè E' pure giusto Quando criticano Delle persone Ecco Le persone Che vanno criticate Su youtube Sono quelle che Sono quelle persone Che fanno Che fanno Che non vedo Loro Cioè Non che non vedo l'ora Che fanno Visualizzazioni E che fanno Mi piace Per soldi Quelle sono persone Che vanno Quelle sono persone Che vanno Rimproverate E non youtuber Come ciccio Gamer O Per fare un altro esempio Favij Poi Vabbè Per quanto riguarda Favij Molti non saranno D'accordo Però A me mi fa Però sinceramente A me mi fanno Anche schifo Le persone Che prendono Per il culo Favij Che tutti Dicono Che tutti Che tutti Dicono E' un money grabber E' quello E' quell'altro Cioè Secondo me Vabbè Questo E' un altro Discorso Però Secondo me Cioè Secondo me Cioè Cioè Io non lo considero Un money grabber Cioè Io Favij L'ho conosciuto Un po' di anni fa Su youtube Ed è E mi è subito Piaciuto Quindi Io non lo considero Un money grabber Vabbè Chiudo questa parente Sì E Ritornando al fatto Di ciccio gamer Del romix E Ritornando al fatto Di ciccio gamer Del romix E E Niente Ripeto Queste sono persone Di merda E Niente Non ho niente Altro da dire Perché Cioè Questo video È stato un pochetto Questo video È stato un pochetto Corto Questo video È stato un pochino Corto Perché Come ripeto Io Non Non sono uno Che parla molto E Quindi ecco Perché il video È stato Così corto Quindi con questo Vi saluto Vi rimando Al prossimo video Ah Innanzitutto Vi rimando Al prossimo video Che poi Vedrete Nei prossimi video Quello Quello che succederà Quello che metterò E Niente Ragazzi Bella a tutti E andate in pace Ciao Ciao Grazie.